la città di Kherson. Anche l'Italia è contraria al taglio dei consumi di gas proposto dalla Commissione europea in caso di emergenza e l'aumento dei tassi di interesse fa schizzare in alto le rate dei mutui a tasso variabile. Laura Garofalo. Il piano d'emergenza per il gas spacca all'Europa la proposta della Commissione non piace a molti paesi, Italia compresa. Contrari anche Spagna, Grecia, Portogallo e Polonia, dubbiosa la Francia, convintosi della Germania fortemente dipendente dal gas russo. Preoccupa soprattutto il taglio secco, uguale per tutti, del 15% dei consumi. Una riduzione che non tiene conto, dicono le nazioni più critiche, delle diverse esigenze e delle difficoltà per alcuni stati di ottenere approvvigionamenti da fonti diverse dal metano. Intanto le forniture di gas dalla Russia attraverso il Nord Stream sono tornate ai livelli di dieci giorni fa, ma non si può escludere un nuovo stop da parte di Mosca. Proprio per luce gas, i rincari per le imprese, stima la CGA di Mestre, ammontano a 106 miliardi di euro quest'anno, mentre le famiglie non solo dovranno fare i conti con il caro bollette, ma anche con l'aumento del costo dei mutui. Giovedì, infatti, per contrastare l'impennata dell'inflazione, la Banca Centrale Europea ha alzato di mezzo punto il costo del denaro. Questo vuol dire che presto si alzeranno le rate dei mutui a tasso variabile. La Fabi, il sindacato dei bancari, denuncia. Negli ultimi giorni ci sono stati incrementi fino al 3% sugli interessi di prestiti e mutui.